ciao ragazzi bentornati sul canale quindi sto facendo una serie di video di come guadagnare perché io ho un'esperienza di anni di siti che fanno guadagnare siti che sono scam siti invece che sono che puoi guadagnare app per telefono quindi questa è un'app che funziona perché l'ho testata e ho qua la dimostrazione perché su paypal vedete che c'ho tutti i pagamenti you receive e payout qua 17 centesimi 18 centesimi 18 centesimi vedete tutti i guadagni che ho usando quest'app io con quest'app ho guadagnato circa 5 euro in pochi mesi che si chiama app flame aspettate un secondo app flame che ho qua anche nel app flame eccola qua praticamente come funziona vi consiglia dei giochi che questi qui che hanno la fiamma sono quelli che guada che che fanno guadagnare di più poi voi non è che dovete proprio giocare al videogioco basta che lo aprite lasciate aperto il videogioco questo vi permette di guadagnare soldi anche senza utilizzare il videogioco cioè andate sull'app fatela collegate con con l'email di gmail poi scaricate le app consigliate i giochi poi voi praticamente dovete raggiungere dei crediti quando raggiungete un certo quantitativo di crediti potete pagare farvi pagare su paypal vedete ogni duemila ogni duemila monete ogni duemila crediti del potete andare su paypal e farvi pagare ed è fantastica perché io 5 euro le ho fatti solo ma non è che giocavo cioè aprivo il gioco aprivo il gioco vedete qua ho la lista dei miei giochi sono anche giochi carini insomma aprite il gioco se ne avete voglia giocate se non lo lasciate solo aperto per il quantitativo di secondi che dice qua perché qua dice gioca a world series poker per 8.000 secondi che sarebbe una mezz'oretta cioè lasciate aperto il gioco per 8.000 secondi e guadagnate 564 crediti quindi voi impostate il telefono così magari ci avete più di un telefono scaricate le app le aprite lasciate il telefono a usare l'app e guadagnate i soldi e il pagamento come vedete è stato effettuato e viene effettuato immediatamente quindi io ho guadagnato circa 5 euro con questa app vedete qua mi ha dato 36 centesimi perché a volte c'è il bonus ci sono dei giorni che guadagnate il 200 per cento dei giorni che guadagnate normale che sono circa 17 centesimi ogni tot dei giorni invece che ci avete il guadagno del 200 per cento e quindi ne vale la candela insomma è un altro buon metodo per guadagnare utilizzando solo il cellulare quindi a buon rendere alla prossima ciao